I migliaia al boss per la tradizione del brindisi della vigilia di Natale. Nello storico locale del centro storico in Via Castello, moltissimi aquilani si sono ritrovati tra buon vino e panini per scambiarsi auguri e rivedere un pezzo di città finalmente viva. Per rivedere gli amici, oltre per un buon bicchiere di vino o champagne, meglio ancora, ma siamo tutti qua a Natale. Vogliamo fare anche un augurio, visto che ormai ci siamo, insomma sono arrivate anche queste feste. Sì, auguri a tutti e in particolare agli appassionati del vino dell'Aquila, che tra l'altro siamo i consumatori più... in Abbrutto si consuma più vino che in qualunque altra regione. Facciamo un augurio a tutti gli aquilani? Certo, soprattutto a quelli che arrestano. Una tradizione immancabile, quella della vigilia al boss, che va avanti ormai da anni. Ci si ritrova dal mattino e si prosegue sino a sera. L'aperitivo al boss è una tradizione, non si manca, si viene sempre. Per forza, cioè dove vorresti andare altrimenti. Tanti, tanti cari auguri da bagno grande e dintorni. Ecco, quindi anche le frazioni che si avvicinano all'acqua. Sì, decisamente. E per il resto ancora tanti auguri e niente. E felice anno nuovo. E felice anno nuovo, buon anno. Da che ora siete qui? Dalle 11, presto presto.